hashtag noi amiamo gli animali ciao a tutti mi chiamo camilla e vi do il benvenuto nella scuola dei piccoli e degli animali di pets and kids per amore a quattro zampe tutti pronti per una nuova ricerca ecco qual è l'argomento del video di oggi crescere insieme ad un amico a quattro zampe è importante per lo sviluppo del bambino ma ci sono addirittura insegnamenti preziosi che possono essere trasmessi dal felino al piccolo umano in questo nuovo video pensato per voi da noi di pets and kids per amore a quattro zampe vi sveleremo le sei lezioni di vita che un gatto può dare a un bambino chi ha detto che i gatti sono troppo indipendenti per stringere rapporti profondi e duraturi con i piccoli umani a quanto pare non è assolutamente vero poiché un bimbo che cresce con un felino domestico ha più possibilità di diventare un adulto socievole ed empatico la prima lezione di vita di al piccolo di casa sarà quella di impartirgli il senso della responsabilità poiché quest'ultimo sarà chiamato a prendersi cura dell'essere vivente a quattro zampe che vive con lui la seconda lezione sarà il rispetto per gli altri animali e umani che siano e a come trattarli con gentilezza altro insegnamento sempre inerenti al rispetto è quello del tempo e degli spazi degli altri il bambino per primo dovrà rispettare le esigenze del gatto ovvero quando dorme quando mangia e quando semplicemente vuole del tempo solo per sé la quarta lezione ha come effetto lo sviluppo cognitivo del bambino migliorando il suo modo di parlare e interagire con gli altri addirittura può essere un rimedio contro la balbuzie il quinto insegnamento è quello di insegnare appunto l'empatia al piccolo inducendolo a comprendere gli stati d'animo delle persone infine l'ultima lezione riguarda la cura e l'igiene personale chi meglio di un gatto così attento alla sua pulizia può essere miglior maestro ti è piaciuta la nostra ricerca sulle sei lezioni di vita che un gatto può dare a un bambino c'è ancora tanto da scoprire sull'argomento se vuoi conoscere altri particolari sugli insegnamenti del felino al piccolo di casa clicca sul link dell'articolo corrispondente non dimenticare di iscriverti al nostro canale e arrivederci al prossimo video di pets and kids per amore a quattro zampe ciao ciao ciao